ne troviamo alcuni molto palesi come bello figo e dennis docio il primo ha un contenuto descritto come video riguardanti temi sconci e di bassissimi vabbè sì è normale che il moige tilti vedendo bello figo mi piace la figa la figa che squinta perché piccolo adesso è totalmente fusa sharon e le sue trasformazioni vedi che arancione come le sfere è legato a sharon bene che gonzio legato ai kaioshin e che goko e vegeta sono legati ovviamente addio della distruzione e addio del tra mio padre si comprava il biglietto del concerto veniva nello stadio si faceva i suoi piatti poi mi telefonava la sera dicendo gina a papà sono orgoglioso però ma la gente che fa in quel momento ero a bocca aperta raga l'intro palesemente fatta per prendermi per il culo io vi giuro non so che cosa dire ero parli vabbè sono i tuoi video però si è si capisco però la rottura di coglioni che ti vanno a prendere magari solo le robe cringe è come se bello però farebbe ridere se mi invitasse una trasmissione generale questo è dario moccia per forza di pazienza ragazzi è rispostato qua ok e se riesce a chiuderla non mi ricordo come si fa perdona perché io da un botto che non lo so di scorda quindi abbiate pazienza vedi che poi entra gente a caso più che altro per quello sì no c'è ragione oddio c'è ne stava una che ha letto aspetta scusa mettiamoci in staff vocal e poi la dovrebbe essere chiusa sinceramente per forza per foto qui a prox di cosa stai parlando adesso dici nella mia vita golden state senti sto facendo il momento basket dario onesto o ma sei impazzito scusa fischiare fortissimo forte a fischiare sì sì ma faccio ma legi facciamo ragazzi eh vabbè era un bambino lasciate il volotto oltre a lui stesso che pezzo farà mai entra è entrato Luffy si va a letto ehi madonna ragazzi mori merda umana che cosa sono i twitch rivals? come cosa sono i twitch rivals? ne ho sentito parlare un sacco di volte quando vai ad Amsterdam a giocare a Fall Guys cappellaio opacco GaboCop, Matti, Ducaterra, Executor basta dire nome abbonati no, P-Rods tra l'altro vedo che hai il Prime libero quindi prima di dire non dire i nomi degli abbonati oddio sto ringraziando chi gli dà i soldi dammi i soldi anche te e vedrai che ti nominerò invece di piangere grazie a Mick Mardo grazie a Raon Mark grazie a Simo e a loro occhi a questi ti risparo tutti nel volto e sono tutti dedicati a te grazie a Sadie Gengar a Raph di B99 poi magari al Prime libero perché così Violet ti può ciucciare il microfono ciao ciao Gianluca Gianluca ma come sei bellino così con quelle gocciotte dissing clamorosa caverna di Platone fine di un'amicizia no 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 non vi preoccupate nessun dissing anche cercherò di fare una conversazione molto molto pratica concreta con voi vediamo una bella cogitata eh come calma eh a Rick Dufer riflessioni allora grazie a Omar Bay grazie a Paschio grazie a Argo Twitch grazie a Sabo grazie a Bicarbonato di Sodio e Peppal Scroc ah prima di andare avanti dimenticavo una cosa importante spingere il 500 si va a letto d'altronde ed è per forza oh my goodness oh my Davide Maraldi ma poi non so mai così licei cioè licei sono lì oggi c'è la portata del fumo oh c'è da darmi 7 euro per il fatto canale perché sto prestato salato ma no guarda il culo c'è lì ma cosa c'è oggi matematica cioè questo è il liceo quindi tanto controllo ragazzi Mario è fake la pedone eh sì quale pedone fake chissà quante pedone vabbè vabbè sembravi un orangotango senza senza un piede no orangotango fa così e poi prendi la mamma di Mario partiamo con mosca cieca questa raccolta di video è a puro scopo intrattenitivo divertitevi stronzi play play leo the blood no sequel poco zone c'è che i risollici ecco ragazzi ragazzi le persone che hanno realizzato questa playlist sono loro eh io non c'entro niente ragazzi questo è il quarto video io io non me la sento avanti non c'entro non c'entro Mi è bruciata la casa ragazzi, vi rendete conto? Perché qualcuno mi ha scritto perché mi puzzano i piedi E ritengono l'intero genere femminile una sorta di razza inferiore Qualcosa veramente di assurdo, per carità Sudore acido più ambiente umido significa creare un ambiente perfetto Un chilo, un chilo di polvere da sparo Kabul, Dio me Vabbè, pensavo bene Welcome to Top 10 Sexiest Anime Characters Number 10, One Piece Nami Just a classic Number 9, Asia Argento, High School of the Dead Oh Number 8 Anzi, ma questo è da arrestare Ash, eh? 8, Gotta Catch Them All franchise Vabbè, troll, dai Ragazzi, andiamo avanti Tanto pezzaccio di Dio, veramente, il caso di dirlo, eh, in questo caso In questo video, la stessa polizia Ragazzi, basta! 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 Ma poi se li leggi di seguito è un casino, ragazzi No, basta, basta! Ragazzi, non lo voglio, sto in mezzo a te I pasticciotti presentano gli ebrei E io, miro, non lo voglio, sto in mezzo a fare E io, miro, sto in mezzo a fare